...di questa vita, non sei un vero supereroe, sì che... ...diamine vuoi che non lo sappia? A ciò non toglie che anche io abbia assaggiato una bella vita. Possedere questi poteri non è esattamente uno scherzo. Sei tuo anzio, ti adorano tutti quei fratelli. Sai quanto mi è stato d'aiuto? Beh, la sorella di Dwight sta premendo. Non so se vi spiego. Ok, grande e buono sono un di rado alla stessa persona. Moia, sto andando alla prossima sottostazione. La sua posizione è segnata sul tuo GPS. Ci sono anche nuovi sviluppi, ma ti richiamo non appena avrai attivato la corrente. Dunque, la sorella di Dwight mi ha mollato. Sì, che è il disastro. Eh? Credevo fosse una cosa seria. Per me lo era, sai. Volevo trattarla bene, lasciare che la storia maturasse. Non cercavo una notte d'avventura, ma qualcosa di più. Come te, Trish. Beh, comunque lei arriva e mi dice che hai giusto un paio di minuti. Poi comincia a dire che mi vuole davvero bene, ma che... ...mi vede solo come un amico. Sarò sempre tua amica, Sik. Mi ha detto proprio così. Eh, no. Eh, le donne sono strane. Nessuno le capirà mai. Eh, vabbè. Le due vostri vestite. No. Eh. Eh. Scusate. Molto bene. 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 mi spiagino. Mi spiagino. Mi dispiace. non è di grave comunque ora sono di nuovo libero di spassarmela di mettermi in cerca a dopo a dopo e vai imparate una nuova mossa granata non 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 auto la paghera il suo lavoro Mostra elettrica. No. No, la aqua 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 no. Grazie. Grazie. Scordatelo. 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 No, 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 no. Gjørke mig sparer! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muori! Grazie a tutti. Muori... 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 bloccato la parola andata col paese se il volo avete rotto le palle ragazzi c'è mancato poco davvero poco che accidenti ci facevi qui? volevo solo aiutarti fratello infiltrarmi per scoprire cosa tramano quei sacchi di rifiuti ambulanti sei impazzito? fortuna che non ti hanno ucciso che stai dicendo? che il vecchio Zeke dovrebbe marcire su un tetto che è buono solo per farci una risata ma non quando c'è da fare sul serio intendi questo Cole questo non è un gioco Zeke non più il fatto che tu abbia dei poteri non ti rende migliore degli altri Cole per niente ma mi sono arrivato e vi fanno ci siamo alla prossima